che bella piantagione di marijuana così molti di voi hanno commentato un video dove usavo questo sfondo vi devo deludere purtroppo non si tratta di una piantagione si tratta semplicemente dell'orto di mia suocera ma soprattutto non si tratta di marijuana si tratta di innocue piante di eliantus tuberosus vulgarmente detto topinambur comunque sia continuiamo continuiamo la serie sui pirati con henry avery il re dei pirati henry avery questo è il suo jolly roger nella versione rossa beh una volta dovrò fare una puntata sulla differenza fra jolly roger rosso e jolly roger nero la farò la farò se ne ho voglia comunque henry avery il re dei pirati perché viene chiamato così perché henry avery è riuscito in un'impresa che è la più ambiziosa e spericolata che un pirata abbia mai potuto concepire cioè non assaltare semplicemente una nave ma un'intera flotta una flotta di 25 navi più precisamente la flotta del gran mogul imperatore dell'india e discendente diretto di gengis khan e questa flotta maestosa ogni anno portava miliardi di pellegrini alla mecca carica di ogni ben di dio dunque come fa lui ovviamente capisce che non può portare a termine l'impresa da solo quindi si allea con altri cinque capitani pirata cioè fa una specie di 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 consorzio di pirati di cooperativa pirati cioè proprio la cosa che abbiamo detto nella puntata numero zero è assurdo impossibile lui lo fa insomma la flotta del gran mogul viene intercettata e henry avery che è l'ammiraglio della della flotta del consorzio con gli altri capitani pirata si getta all'inseguimento naturalmente nella flotta del gran mogul ci sono navi più lente navi più veloci navi più piccole navi più grandi le navi si sparigliano cioè le distanze si differenziano e i pirati inseguono le navi una ad una finché finché la nave di henry avery arriva in prossimità dell'ammiraglia della nave più grande più maestosa del gran mogul che si chiama ganj issawai una nave immensa con 40 cannoni 400 fucili carichi e comincia la battaglia ma henry avery è una fortuna ha una fortuna sfacciata perché una palla di cannone della sua nave colpisce centra in pieno perfettamente l'albero maestro del ganj issawai e lo spezza il ganj issawai rallenta 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 non ha più propulsione non ha più spinta ma non solo c'è un altro colpo di fortuna per henry avery che il ganj issawai ha un cannone difettoso e nello sparare esplode facendo strage dell'equipaggio indiano insomma la battaglia si risolve con la vittoria di henry avery che fa strage dell'equipaggio del ganj issawai la sua fama la fama del pirata che ha assaltato con successo non una nave ma una flotta intera la flotta del gran mogul si sparge in tutto il mondo lui diventa iper famoso naturalmente la notizia arriva anche al gran mogul imperatore dell'india discendente diretto di gengis khan e cosa fa il gran mogul cosa fa gran mogul chiede vendetta mi vendicherò maledetto henry avery ma no ma no non sarebbe il gran mogul manda semplicemente un messo al governo inglese il messo dice salve sono il messo del gran mogul mi manda a dirvi che un suddito inglese ha assaltato la sua flotta no 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 non abbia saputo ma dicono gli inglesi non è un suddito non pirata è fuori legge è un nemico è un nemico del regno ma certo è un pirata è un pirata inglese allora allora il gran mogul avrebbe deciso di interrompere i rapporti commerciali con l'inghilterra interrompere i rapporti commerciali con l'inghilterra cosa vuol dire gli inglesi avevano la cosiddetta compagnia delle indie era una compagnia di mercanti all'inizio era semplicemente una compagnia poi si era arricchita si era ingrandita al punto da avere delle sedi dei magazzini direttamente in oriente in india e addirittura delle navi armate per proteggere le navi mercantili cioè si trattava di espellere fare espellere tutti gli inglesi quindi tutti i membri della compagnia delle indie dall'inghilterra fermare completamente il commercio un danno catastrofico per le per l'economia inglese allora l'inghilterra corre ai ripari cosa fa la compagnia delle indie si offre di risarcire i danni subiti dal gran mogul anche se non c'entrava niente non aveva nessuna colpa e il governo inglese dichiara harry avery hostis umani generis cioè nemico del genere umano e mette su di lui una taglia di 500 sterline è la prima volta che c'è una caccia all'uomo a livello internazionale ben presto la somma raddoppia e arriva a mille sterline cioè una cifra vertiginosa la fama di harry avery cresce ancora di più diventa veramente il più noto pirata del mondo è una delle persone più famose del mondo e cosa succede poi che ne è di lui leggende leggende non lo sappiamo alcuni dicono che sul ganji sawai ci fosse la figlia del gran mogul in persona e che harry avery l'abbia rapita e sia poi andato a vivere con lei in un lussuosissimo castello in madacascar altri dicono che harry avery in madacascar abbia fondato niente meno una repubblica cioè il re dei pirati fonda una repubblica la repubblica di libertalia per tutti i pirati che volevano vivere liberamente una repubblica con una sua bandiera bandiera bianca contraposta alla classica bandiera nera dei pirati una sua lingua addirittura una lingua diversa da tutte le altre lingue la lingua degli uomini liberi l'autore del general history of pirates che forse daniel defo ma forse no dice che sì sì all'inizio i pirati di harry avery erano arrivati madacascar solo che lì non c'era gente non c'erano cose da comprare era inutile la ricchezza e allora si sono rassegnati a tornare sotto falso nome in europa in inghilterra e dice l'autore del general history of pirates che nello specifico harry avery tornato in inghilterra sotto falso nome nel tentativo di vendere i suoi diamanti perché i diamanti non si mangiano si sia affidato a dei malandrini a dei commercianti che lo dovevano gli dovevano vendere i i diamanti per poi dargli una somma cospicua del ricavato si sia fatto buggerare viceversa come un gonzo e abbia finito i suoi giorni addirittura chiedendole l'emosina difficile sapere difficile sapere se è rientrato sotto falso nome se non l'ha mai preso come fa daniel defo chi per lui a sapere vabbè non si sa quello che si sa e che non si sa quello che si sa che non si sa cioè di fatto harry avery non è mai stato trovato e harry avery è uno dei pochi pirati a non essere morto in piccato questa è la storia paradossale del re dei pirati culmine del paradosso lui ha fondato una cooperativa pirati un consorzio di pirati proprio quello che nella puntata zero abbiamo detto è assurdo e paradossale impossibile lui re dei pirati avrebbe fondato una repubblica lui è uno che si è fatto un nome al punto da dover cambiare nome lui è uno che è diventato famoso al punto da essere costretto a sparire nel nulla fantastico bene se vi è piaciuto questo video allora mettete un bel non mi piace e se invece non vi è piaciuto mettete mi piace così il contrario il contrario giusto per disorientare l'algoritmo che è molto piratesco